Questa mattina nel reparto di chirurgia dei sargeri del Santa Croce si è scritta un'altra bella pagina di sanità pubblica dove il privato dà una sostanziale mano per migliorare le prestazioni offerte al cittadino. Protagonisti di questa bella pagina la Profiglas che secondo la sua polis aziendale è ben presente sul territorio dove è nata restituendo quando è possibile e laddove ci sia necessità risorse e contributi in uno scambio virtuoso tra comunità e comparto industriale e l'azienda ospedaliera Marche Nord con le sue eccellenze in ambito chirurgico e i suoi protagonisti come il dottor Fares che ha fatto da gancio supportato dalla direzione generale. Devo dire che si è concretizzata nella donazione di 30.000 euro che dopo ha visto l'acquisizione di sei poltrone di dei sargeri, di 21 armadietti e di carelli per la tenuta della documentazione sanitaria. Che dire, grazie ancora, grazie anche alla struttura di dei sargeri e a tutti gli operatori dell'ospedale Santa Croce e di Marche Nord. Il day surgery consente una gestione ottimale del paziente chirurgico per una vasta gamma di interventi a vantaggio sia della qualità della vita del paziente e di ottimizzare al meglio le risorse disponibili. Noi qui facciamo una chirurgia dei sargeri e chirurgia ambulatoriale. Cosa vuol dire? Facciamo tutta la chirurgia proctologica, la chirurgia di parete, tutti i tipi di ernia. Facciamo la chirurgia flebologica. Assicuro che facciamo tutto ad altissimo livello grazie alle innovazioni e diciamo che ha un costo che questa direzione permette di fare. Grazie al mio direttore e alla direzione generale ci hanno dato delle risorse, hanno aumentato così molto le risorse che intorno, ospedali intorno, regioni intorno, le liste d'attesa sono lunghissime e noi riusciamo a dare, secondo me questo è il punto più importante a cui ci tengo a dire, che se uno ha un'ernia noi la operiamo in 15 giorni, se ha una varice la operiamo in 3 mesi quando le liste d'attesa in altre parti per questa patologia ritenuta benigna, ma se uno sta male, sta male, sono di qualche anno. Questa mattina alla presenza dei vertici aziendali e di diversi direttori di unità operativa e anche del sindaco di Fano sono stati inaugurati nuovi arredi che renderanno ancora più efficiente il reparto che vanta già, grazie all'arrivo del dottor Alberto Patriti, diverse eccellenze. Il nostro lavoro, per quanto forse la gente ancora non lo ha compreso bene, non è fatto da illuminare, è fatta dalle equip, ormai si lavora solo in equip, è impossibile sapere tutto e quindi è necessaria una integrazione fra le varie professionalità. È quello che abbiamo cercato di fare negli ultimi anni qui a Marche Nord e i risultati sono eclatanti.